Buonasera, grazie per l'invito, un saluto ai telespettatori. E il nostro direttore, Gennaro Sangiuliano, direttore, buonasera anche a te. Oggi dobbiamo partire in maniera inusuale, Presidente, perché è lei che fa la domanda... Mi sono tolto una soddisfazione per una volta. È lei che fa la domanda al nostro direttore e io non posso non dare la parola al direttore Sangiuliano. Allora, volendo rispondere al Presidente e poi cercando anche io di fare una domanda a lui, io penso questo, io sono un crociano e Benedetto Croce diceva che la politica è una cosa alta che deve essere la proiezione programmatica di quanto viene elaborato nel mondo delle idee. E allora, cerchiamo di stare un po' sui programmi. Che cosa vi distingue dagli altri da un punto di vista programmatico? E se lei dovesse indicarmi tre cose da fare subito per l'Italia, quali sono? Direttore, mi fa piacere che mi abbia rimandato la palla, richiamando l'attenzione anche dei telespettatori sui programmi e sugli obiettivi ovviamente politici da raggiungere. Noi abbiamo un vantaggio, che le priorità le abbiamo già declinate, le abbiamo presentate al Premier Draghi in un testo ufficiale, un documento molto serio e lì c'è scritto innanzitutto che non possiamo accettare che ci siano dei lavoratori che si spezzino la schiena dalla mattina a sera per 3 euro lordi l'ora. C'è un problema del precariato, un problema molto serio perché la maggior parte dei nostri giovani, ma anche non solo giovani, delle donne, hanno dei contratti di lavoro a tempo determinato, il che potrebbe non essere un male. Ma se questi contratti per il 10% hanno la durata di un solo giorno, per la maggior parte non superano un mese, 30 giorni, noi abbiamo un problema serio col precariato. E poi ancora ovviamente c'è un problema della perdita del potere d'acquisto per quanto riguarda il ceto medio, si è impoverito. L'abbiamo visto da 30 anni noi ormai non riusciamo a far crescere i salari, abbiamo un problema di produttività, ma il problema salariale adesso è serissimo, perché non dico di poter competere con Germania e Francia, sono al di fuori della nostra portata, i salari in 30 anni sono cresciuti più del 30%, ma da noi hanno un segno negativo. Col caro bollette, col caro prezzi è quello che cercano di rappresentare a Draghi, è la ragione per cui lo abbiamo benevolmente incalzato. Noi non possiamo affrontare l'autunno con queste misure, con questi pannicelli caldi. Dobbiamo intervenire soprattutto per il ceto medio dei lavoratori che si è impoverito, perché altrimenti i consumi decresceranno e tutto il sistema produttivo crollerà. Quindi aggiungiamo ovviamente anche, oltre al taglio del curio fiscale, dobbiamo assolutamente abolire l'IRAP, l'abbiamo già fatto per i piccoli contribuenti, per le piccole imprese, lo dobbiamo fare per tutte le imprese. Ecco Presidente, poi ci sono le alleanze, soprattutto il dibattito politico, il Partito Democratico stringe l'alleanza con Calenda e abbiamo visto che Fratoianni e Bonelli, sinistra italiana e Verdi hanno storto il naso, hanno annullato anche il faccia a faccia con il segretario eletta. Il PD vi accusa di aver fatto cadere il governo Draghi, voi vi sentite questa responsabilità e soprattutto sarete voi ad allearvi con Verdi e sinistra italiana? Guardi, io ci metto sempre la faccia, i cittadini lo sanno, in tutte le iniziative politiche io con il Movimento 5 Stelle ci abbiamo sempre messo la faccia, quindi in questo momento non mi devo giustificare di nulla. Io semplicemente ho incalzato il governo sulla prospettiva di un autunno caldo, gli italiani saranno in grande difficoltà ed era giusto e necessario condividere col governo, costringere il governo a dirci quali sarebbero state le misure, un cronoprogramma con indicazioni un po' più puntuali. In una situazione del genere il Movimento 5 Stelle non può condividere una responsabilità diretta di governo dando le chiavi, una cambiale in bianco a qualcuno per quanto prestigioso sia senza nessuna garanzia di comprendere dove stiamo andando e come ci arriveremo. Sono solo otto mesi che mancano alla fine della legislatura ma quegli otto mesi saranno caldissimi per chi non può arrivare a metà mese. Io non dormo la notte per chi in questo momento non a fine mese, non arriva a metà mese, figuratevi per otto mesi. Quindi non era questo il nostro obiettivo, poi se volete dare la colpa a noi ce l'assumiamo. Mi sembra evidente che il Premier Draghi abbia, come dire, rifiutandosi al confronto con una postura direi anche un po' sprezzante, non abbia inteso cogliere il significato genuino del confronto che gli abbiamo proposto. Altri partiti sono messi ovviamente in mezzo a volerci escludere dalla maggioranza. Allora avete visto chiaramente Forza Italia, Lega. Ancora prima abbiamo avuto un nostro compagno di viaggio Luigi Di Maio che ha pensato bene, la Ministra degli Esteri, che di fronte a una crisi internazionale pur declamando tutti i giorni, che la crisi è gravissima, il conflitto è gravissimo, ha pensato bene di dedicarsi anziché ai negoziati di pace a farsi un partito sotto i nostri occhi e non solo, ha fatto un partito e poi ha iniziato a cannoneggiarci tutti i giorni. E adesso che impressione le fa, Presidente? Lei ha conosciuto a lungo Di Maio, è stato il suo Vice Premier nel primo governo Conte, poi ha collaborato con lei da Ministro degli Esteri. L'idea che lui adesso possa candidarsi come sembra che si sono intrecciate le cose nelle liste del PD, che impressione le fa? Direttore, posso esserle sincero? A me non va di parlare male delle persone, ma si metta nei miei panni. Posso essere felice di vedere uno spettacolo in cui lo stesso Luigi Di Maio per anni ha parlato contro i Volta Gabbana, ha denunciato fuochi e fiamme con quelli transfughi che passavano da un partito all'altro? Non voglio giudicare, ognuno fa le sue scelte, per carità, legittimistica, che sia in pace con la sua coscienza, ma che sia in pace con la sua coscienza, anche Enrico Letta, che quando è tornato da Parigi e ha chiesto l'investitura di fiducia al suo partito come segretario, nel suo programma ha detto come prima cosa voglio la riforma dei regolamenti parlamentari, non dovremo permettere più cambi di casacca. Adesso vedo che si formano partiti, si scioglono, si riformano, come è sempre stato nella migliore tradizione della vecchia politica. Lo facciano, lo facciano. I cittadini poi valuteranno, se vorranno premiare queste operazioni le premieranno. A me sono operazioni che non convincono, perché sono operazioni ovviamente che non posso essere nobilitate, ecco quello non posso permetterlo, su questo voglio essere chiaro. Fate le operazioni che volete, fate tranquillamente, abbracciate, separate, litigate, fate tutto quello che volete, non permettetevi però di dire che queste operazioni nascono perché il Movimento 5 Stelle è stato irresponsabile, noi non siamo mai stati responsabili e non permettetevi di dire che il partito Luigi Di Maio l'ha fondato perché noi siamo anti-atlantisti, noi abbiamo attentato alla sicurezza nazionale. I cittadini adesso possono vedere con mano la consistenza di tutte queste fandonie. Voi a questo punto, Presidente, cosa farete? Correrete da soli? La domanda mi riallaccio a quella di prima con Sinistra Italiana e Verdi. Tra l'altro c'è una data, 5-8 agosto per le parlamentarie. Guardi, in questo contesto una forza politica così fortemente ispirata dai principi e dai valori che per mantenersi coerenti ha subito anche queste perdite di compagni di strada che hanno abbiurato e rinnegato questi principi e valori. Una forza politica che addirittura in questi giorni si è privata anche di figure importantissime che hanno contribuito a realizzare delle riforme storiche, epocali per il nostro paese. Una forza politica del genere, secondo lei come affronta questa campagna? L'affronta con la serenità, guardando negli occhi i cittadini, presentandosi allora e dicendo avevamo nel 2018 questi impegni, per l'80% li abbiamo conseguiti e adesso torniamo da voi, preferiamo piuttosto che ammucchiarci da qualche parte con compagni di viaggio di cui non possiamo garantire eventualmente la serietà, noi preferiamo se del caso presentarci anche da soli, però le aggiungo che noi siamo aperti per vocazione naturale alla società civile, ai cittadini, alla parte sana del paese, all'associazionismo, quindi vedrete poi alla fine proporremo anche ai cittadini che entreranno in cabina elettorale anche delle figure, delle personalità che hanno risustato il paese e potranno dare un contributo. Direttore? Veniamo un attimo ad alcune questioni concrete, il super bonus è stato molto contestato, si è parlato di megatruffe, di soldi dispersi, altri invece dicono, sostengono che il super bonus abbia apportato dei benefici all'economia italiana, lei come la vede? Direttore mi permette di risponderle, non come la vedo io, i dati che abbiamo a disposizione, e vedi i dati che abbiamo a disposizione oggi un giornale che non è mai particolarmente tenero con il Movimento 5 Stelle, non può essere accusato di piaggeria, per intenderci il sole 24 ore, lei ha già colto lo spunto, ha titolato in prima pagina boom, fisco, entrate incredibili con il super bonus, cioè nei primi sei mesi almeno 4 miliardi di entrate sono dovute al super bonus, sono quei soldi che adesso vengono utilizzati, potremmo utilizzare per sostenere famiglie e imprese in questo caro bollette, caro energia e caro prezzi. Allora il super bonus, facciamo una valutazione complessiva, l'hanno già fatta, Nomisma e tantissimi istituti di ricerca, noi abbiamo fatto un investimento a beneficio di tutti i cittadini, questa è la cosa bella, a beneficio di tutti i cittadini, abbiamo premesso, realizzato le premesse per una rigenerazione urbana dal basso, democratica, anche a chi non ha una lira e questa rigenerazione porta al taglio delle emissioni CO2, questo va quantificato, ha portato a 630 mila nuovi posti di lavoro nel settore delle costruzioni e nei settori collegati. Adesso però ci sono tante imprese che hanno nei loro cassetti questi crediti e non sanno che fine faranno. Ci arrivo, mezzo milione di famiglie hanno avuto un risparmio all'incirca di 500 euro l'anno per le bollette, ovviamente qui che cosa è successo? Che abbiamo avuto un governo che lo ha, Premier Draghi ne ha parlato pubblicamente male, è andato al Parlamento Europeo a parlarne male, al Senato da ultimo si è scagliato contro questa misura, perché evidentemente c'è un pregiudizio ideologico. Però qualche truffa c'è stata oggettivamente. Allora le truffe direttore, lei che conosce i dati che è sempre molto attento, sa che sono meno del 3%, quindi una percentuale modestissima rispetto a un investimento complessivo che si agisce a 320 e 30 miliardi con un ricavato invece di 120-130 miliardi. Non è da rimodulare come ha detto Draghi? Ma no, il problema è diverso, il problema è salvare quelle aziende e sono 50 mila che hanno crediti, cassetti fiscali, nel cassetto crediti fiscali che non circolano. Però qui il governo, diciamolo, ha fatto una decina di interventi a modifica per restringere soltanto la portata e non ha voluto mai accettare un tavolo di confronto per sbloccare questa cessione. Queste famiglie vanno salvate con un imperativo morale, uno Stato che beneficia addirittura nel 2021 al 6,6% di PIL, crescita del PIL dovuta a questa misura, uno Stato che si avvale di un comparto delle costruzioni che è divenuto la locomotiva in Europa, abbiamo superato tutti, anche il Regno Unito che era dopo di noi, che rimane dopo di noi, uno Stato che si avvale di questo oggi deve quantomeno sbloccare quei cassetti pieni di crediti fiscali bloccati. e noi ci stiamo lavorando, ma qui c'è stata massima sordità. Senta Presidente, diamo uno sguardo anche a quella che è la politica internazionale, non solo all'Ucraina, quindi all'indipendenza di uno Stato sovrano, ma anche a quello che sta accadendo a Taiwan. Una volta al governo, come vi muoverete? Guardi, una volta al governo, ovviamente, noi abbiamo già voluto una responsabilità diretta di governo, conte 1 e conte 2. Le nostre collocazioni internazionali non sono state mai poste in discussione, innanzitutto il sistema dell'integrazione europea, permettetemi di dire che noi abbiamo dato un contributo all'integrazione europea perché con quel recovery fund, portare a casa quei 209 miliardi non è stato solo un grande successo per l'Italia, ma ha significato anche operare una svolta nel percorso di integrazione europea, perché mai prima di noi, nessuno era mai riuscito a creare un meccanismo di fidanzamento basato sul debito pubblico comune europeo. Quella svolta va alle due trattati di Maastricht, lo scriveranno nei testi di storia dell'Europa. E allora non abbiamo mai posto in discussione l'integrazione europea, non abbiamo mai posto in discussione, non porremo mai in discussione la collocazione euro-atlantica. Il problema è come si sta all'interno di questi consessi. Io non mi sono mai presentato in Europa per ricevere indicazioni dalla signora Merkel all'epoca e dal Presidente Macron. Ho detto dall'inizio, dal primo Consiglio europeo, ho bloccato tutto, siamo stati una notte sull'immigrazione fino al giorno dopo. Ho detto, vedo che siete abituati a fare accordi tra di voi. Se non ci sarà l'Italia e non ci sarò io, non direte che abbiamo raggiunto un accordo, fino a quando non lo condividerò. D'ora in poi voglio essere informato prima e partecipare a pieno titolo. Idem per l'alleanza euro-atlantica. O c'è una cieca obbedienza, si vanno a prendere l'ordine altrove, oppure si sta in un contesto con alleati in modo leale, però si cerca anche di dare un contributo. Io penso che l'Italia tradizionalmente, anche per il conflitto ucraino, per quanto riguarda la postura e i rapporti con la Cina, possa dare un contributo importante in termini di indirizzo geopolitico, perché l'Italia vede una tradizionale vocazione che altri paesi non hanno. L'Italia è tradizionalmente aperta a un dialogo, ma un dialogo che non è confusione di ruoli, non significa intelligenza con paesi che ci fanno ovviamente concorrenza, competizioni, addirittura in questo caso con la Russia che è responsabile di una gravissima criminale aggressione militare. Però l'Italia, rispetto ad altri paesi, ha una visione in più. Per esempio adesso nel conflitto ucraino noi dovremmo non più interrogarci come sentiamo tante litanie che si ripetono in tv, le cause della guerra, l'aggressione ucraina, l'atteggiamento criminale. Noi non ci interessa più sapere come si è entrato in guerra, lo sappiamo. Adesso ci interessa come uscire e un governo ci deve dire come uscire, con quale formula si sta battendo per negoziare di pace. Ma le sembra normale che qui nessuno più parla di negoziare di pace? Però la politica estera guidava Luigi Di Maio. Luigi Di Maio, ho visto che ha fatto delle svolte, evidentemente delle svolte anche adesso. In questo, a parte che ultimamente abbiamo detto, mi sembra che sia proprio distratto per concentrarsi sulla creazione di un nuovo partito politico e per ovviamente cercare una collocazione anche personale politica. Doveva diventarsi secondo lei? Guardi, io non ho chiesto a riprova del fatto, a riprova del fatto che noi non volevamo assolutamente creare nessuno smottamento nel governo. Lo smottamento l'ha creato chi ovviamente ha creato un partito e ha iniziato a cannoneggiarci. Ma a riprova che noi non eravamo assolutamente intenzionati a minare la solidità del governo, io non ho mai chiesto né al Presidente Mattarella, con cui ho parlato ovviamente, né al Premier Draghi, nessun rimpasto. Non ho chiesto le dimissioni del Ministro Di Maio, che è rimasto tranquillamente lì, sperando che si dedicasse alle sue funzioni ministeriali e non rimanesse distratto da altro. Non ho chiesto assolutamente nulla, addirittura guardi, noi, proseguendo nell'azione di governo, non avremmo avuto rappresentanti al MEF, al Ministero del Tesoro, che è un ministero chiave. Quindi eravamo disposti ad affrontare la manovra economica senza un sottosegretario. Non era importante per noi. L'importante erano le priorità e discutere quelle proposte che avevamo posto sul tavolo. A proposito di priorità, oggi è stato presentato il rapporto Svimez, che è un importante istituto che si dedica allo studio del Mezzogiorno, lei lo conosce perché è meridionale come me, e ci ha detto che il Sud ancora continua ad arretrare rispetto al resto del Paese. Purtroppo sì, quel rapporto ci dice che regioni importanti del Sud, parlo della Sicilia, della Campania, della Calabria e della Puglia, hanno dei tassi di occupazione bassissimi. Noi dobbiamo assolutamente investire al Sud e lo voglio dire a tutti i cittadini del Nord che ci seguono, del centro Italia e del Nord. Vedete che se io sono riuscito a portare qui in Italia a 209 miliardi, poi lievitati a 245 miliardi con altri fondi dall'Europa, è grazie al Sud. Perché nei criteri e nei parametri che sono stati incisivi per operare la redistribuzione tra i vari Paesi membri, c'è stata l'area del Sud con il suo tasso di occupazione molto basso e tutti i livelli ovviamente di diseguaglianza molti incidenti. Quindi questo ci ha consentito di portare tantissimi soldi qui in Italia. Ecco perché quei soldi che noi del PNRR investiremo al Sud sono soldi che spettano di diritto al Sud in ragione delle diseguaglianze, dei divari assolutamente infrastrutturali, sociali, economici, culturali. Permettetemi di dire, sul Sud, direttore, lei anche del Sud e quindi può comprendermi, ma ripeto, io vorrei veramente su questo la comprensione dei cittadini del Nord. Perché se, lo dico sempre, l'ho sempre detto, se riparte il Sud, riparte anche il Nord, nel sistema integrato, se il Sud riprende nei consumi, nelle attività produttive, eccetera, il rilancio riguarderà anche le imprese del Nord. Abbiamo fatto tre misure, non le abbandoniamo, lo dico a tutti coloro, anche i politici che ci seguono. Noi abbiamo fatto una misura Cresci al Sud con la legge del 2020, proprio per favorire e agevolare l'imprenditoria del Sud. Poi abbiamo fatto una misura Resto al Sud con i miei governi. Resto al Sud significa per evitare che gli imprenditori dovesse spostarsi al Nord o anche le attività libere e professionali. Abbiamo investito tanto con queste misure. E poi, permettetemi l'ultima misura, cito, De Contribuzione Sud. De Contribuzione Sud ha comportato per qualsiasi imprenditore del Sud, che ha creato un'impresa, uno sgravio fiscale al 30%, che adesso è stato prorogato a fine anno. Bisogna negoziare in Europa per portarlo avanti, perché fare impresa al Sud è più difficile che farla al Nord. Presidente, però i grandi meridionalisti, Gaetano Salvemini, Giustino Fortunato, diceva che il Sud non deve essere un territorio assistito di assistenzialismo, ma deve ritrovare una sua forza imprenditoriale, perché la ricchezza la creiamo con l'imprenditoria, con il lavoro, con le aziende. Ecco, secondo lei il reddito di cittadinanza, che è anche un altro punto oggetto di contestazione, non rischia di deprimere il lavoro, la capacità di intraprendere, la capacità di fare impresa, la capacità di fare sviluppo del nostro mezzogiorno? Diventa un mero assistenzialismo. Direttore, guardi, le misure che io le ho citato, resto a Sud, cresci Sud e decontribuzione, sono proprio misure volte a far lievitare l'imprenditoria e le attività libero-professionali, a far crescere l'occupazione, quindi sono proprio in questa direzione. Il reddito di cittadinanza è una questione diversa, chiariamolo ai telespettatori. Il reddito di cittadinanza è quella misura di protezione per gli indigenti, per chi non ha di che sopravvivere, per chi muore di fame, per chi non ce la fa, i poveri veri, la povertà assoluta. Mi permette di dire, è chiaro che ci sono segnalate non gode dei favori di parte della stampa e i nostri avversari politici, pur di attaccare il Movimento 5 Stelle, attaccano questa misura. Anzi, apro parentesi, mi sembra che l'accordo tra Letta e Calenda sia un disaccordo su tutto, ma su due misure, revisione del superbonus e del reddito di cittadinanza hanno trovato l'unico accordo sui programmi. Questo a me preoccupa molto e dispiace con una forza politica come il PD, con cui ho dialogato, lavorando fianco a fianco per l'interesse del Paese fino a ieri, e il Movimento 5 Stelle lo ha fatto con genuina sincerità. Però lei sa che sul reddito di cittadinanza ancora oggi si segnalano casi di cronaca, di truffe, di cattiva gestione, e poi sa che molti imprenditori del sud, soprattutto del settore turistico alberghiero, non riescono a trovare mano d'opera e loro lo impiutano al reddito di cittadinanza. Ecco, allora su questo dico, il reddito di cittadinanza lo abbiamo già perfezionato col Presidente Draghi, noi abbiamo fatto delle proposte che sono state recepite, oggi chi percepisce un reddito di cittadinanza in quei casi in cui c'è una truffa è un reato penale, va in galera addirittura, è punito molto severamente. Quindi noi non diremo mai che togliamo la pensione sociale, le pensioni di accompagnamento e di invalidità perché c'è una truffa, direttore. Invece per quanto riguarda la questione più complessiva, il reddito di cittadinanza oggi risulta carente come riforma, però io dico sempre in Germania a 10 anni hanno impiegato decine e decine di miliardi per politiche attive sul lavoro, hanno investito nei centri dell'impiego, hanno impiegato sino a oltre 100 mila impiegati, persone che lavorano nei centri dell'impiego. Allora lì siamo carenti, abbiamo ereditato un sistema sulle politiche attive, ma non riguarda tutti i percettori di reddito, perché la maggior parte, per due terzi, sono minori, persone con disabilità, anziani, non possono lavorare, chiariamolo, solo una minima percentuale dei percettori di reddito sono tra virgolette occupabili. Però vi dico, faccio una battuta finale, ma qualcuno l'ha mai detto qui in tv davanti ai telespettatori che abbiamo messo a disposizione dei centri dell'impiego proprio per migliorare l'offerta di lavoro un miliardo nel 2019? Per nuove assunzioni, per potenziare i centri dell'impiego che sono a livello regionale? Sapete quante assunzioni hanno fatto sulle 11 mila quasi previste? 3.003, 3.004, per 15 regioni sono nelle mani di forze politiche che contrastano il reddito di cittadinanza. Grazie, grazie Giuseppe Conte, Presidente Branto Cinque Stelle, per essere stato con noi. Poi ovviamente tornerà nel corso di questa campagna elettorale, noi l'aspettiamo. Si ritenga già invitato per un'altra... Mi presento se invitato. Noi rispettiamo tutte le norme... Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo. ? Noi rispettiamo tutti i nostri video, perché ora ritumuz un corso di questo erto, perché non riesce, non è so prêt? Noi rispettiamo tutti i nostri video...